Allora abbiamo ancora un'oretta abbondante, quindi io vi chiedo innanzitutto di tornare in una posizione di ascolto, nel frattempo qualcuno vada a chiamare Enrico, che non so dove sia finito, andate a fare due chiacchiere con gli alieni per capire poi come proseguire l'incontro. Allora ricominciamo con una domanda che è la stessa domanda per tutti voi, anche qui avete massimo tre minuti ma se ci volete stare anche in meno va bene uguale. Allora parlare di questi temi davanti a 300 persone era veramente impossibile. Però sicuramente qualcuno l'ha immaginato, vai Enrico ti facciamo un applauso perché te lo meriti, giusto per farti sentire anche un po'. Dicevo che sicuramente qualcuno l'ha immaginato, ha immaginato tutto questo e tant'è che oggi siamo qua tutti insieme e ci sentiamo parte di una moltitudine inarrestabile, un fenomeno in crescita, chissà. Allora la domanda che vi faccio, che quindi va più su quello che il vostro sentire personale, è questa. Io direi che possiamo cominciare da Mirella, ci passiamo il microfono. Semplicemente a quale conclusione sei arrivato, sei arrivata, dopo i tuoi anni di lavoro in questo ambito? Il risveglio delle coscienze sta avvenendo realmente possibile? Allora è sicuramente possibile perché se no non ci saremmo neanche messi tutti noi nell'impresa di poterli cambiare. Il cambiamento delle coscienze è in atto ed è esattamente in atto anche l'opposto. Le due forze secondo me, come sempre, c'è una forza in avanti e una forza che tira indietro ed è sempre questa lotta continua tra queste due forze diverse, diciamo, che una va indietro e una va in avanti. In realtà l'espansione esiste e come esiste anche un rattrappimento, come una richiusura delle anime, una paura. Quindi molte stanno evolvendo e alcune non stanno evolvendo. Direi che la vista di questo pubblico è incoraggiante. Quando leggiamo le cronache non è incoraggiante. chiedetevi il perché. Perché ci dicono dei falsi, ci raccontano delle false storie. Grazie Mirella. Ottimo. In un minuto e mezzo direi che può essere lo standard per tutti gli ospiti. Allora, io mi considero una ricercatrice di verità e una revisionista, per così dire, del vecchio paradigma. In tutti questi anni di investigazioni mi sono resa conto che la storia dell'umanità non è quella scritta nei libri di storia scolastici. In più, mi sono resa conto, come ricercatrice spirituale, che la visione che abbiamo della realtà, siccome si rifà solo ai nostri cinque sensi, non è quella che pensavamo. Quindi la realtà, così come l'abbiamo sempre pensata, semplicemente non esiste. E allora, dopo queste investigazioni, che cosa posso concludere? Sono arrivata alla conclusione che la coscienza umana, in linea di massima, è come la bella addormentata nel bosco. Solo che non ci sarà, e non ci sarà un principe che arriva a svegliarla. Ma non ci sarà neanche Morpheus con la pillolina azzurra, no? Di Matrix. Quindi sta a noi. Però, allora, tutti i ricercatori spirituali e i maestri soprattutto insegnano che questo percorso è molto lungo e tante volte, anzi, mai una vita non basta. Ma allora il cosmo interviene in nostro aiuto e ci invia continuamente, di continuo, tutti i giorni, dei messaggi che noi però di solito non ce ne accorgiamo perché li scambiamo per il caso. E quindi, per esempio, cose che avvengono per caso, le sincronicità che invece dovremmo, alle quali dovremmo porre molta attenzione, sono ad esempio venire attratti dal titolo di un film, no? Per caso, che poi ci piace, ci comunica qualche cosa. Oppure passare davanti a una libreria, vedere nella vetrina un libro che ci attrae nella sua copertina o per il titolo e poi quando lo compriamo ci accorgiamo che c'era un perché se ci attraeva. Magari conoscere una persona per caso e poi parlando insieme con quella persona ci accorgiamo che ci ha arricchito, ci ha comunicato, ci ha trasferito qualche cosa. Andare a una conferenza? Beh, il fatto di essere qui oggi non è un caso, eh? Beh, io voglio essere assolutamente ottimista, nel senso che da quando ho iniziato nel 2010 a oggi ho visto veramente una crescita nell'interesse per questi argomenti che non avrei neanche lontanamente immaginato. e cioè lo vedo al di là delle partecipazioni alle conferenze, insomma dalla quantità di gente che mi iscrive che è una cosa veramente impressionante. Dall'interesse che c'è all'Italia, nell'Italia e all'estero perché sta, cioè più che iniziando, ormai lì è avviato in un certo modo e devo dire che è un cammino che secondo me è inarrestabile, nel senso che il lavoro che ho fatto con Enrico, quindi mettendo assieme lui gli ingegneri indiani, io degli ingegneri che lavorano per il più importante centro aerospaziale italiano che lavora per la NASA ed è un processo anche quello lì che non si arresta. Il lavoro che ho fatto con Pietro Buffa che sta coagulando attorno a lui dei ricercatori che dopo l'uscita del libro hanno preso contatto con lui e mi ha fatto leggere le mail che ha ricevuto per dirgli vogliamo metterci a disposizione per andare avanti in questo cammino di ricerca appunto sulla possibile vera origine dell'uomo. Quindi è un cammino che nonostante le resistenze a cui faceva riferimento Mirella prima, è un cammino che non fermano più, non fermano più anche perché per fortuna è vero che ci sono tutti questi strumenti di comunicazione grazie ai quali ci controllano ma al tempo stesso sono strumenti di comunicazione che ci consentono di mettere in rete immediatamente le cose che vogliamo comunicare quindi nell'arco di un minuto sono disponibili per tutti. Non so, io quando ho iniziato nel 2010 mi ricordo le prime conferenze conferenze che io non ho mai né organizzato né chiesto di esano, sono sempre stato chiamato e continuo così ma insomma mi ricordo 20 persone insomma ecco adesso invece arriviamo alle 700 persone di conferenze come a Verona eccetera insomma Roma non parliamone insomma per cui devo dire questo cammino qui non lo chiudo più io nel 2010 mai e poi mai avrei immaginato e questo è uno dei motivi per cui devo tornare a stare assolutamente bene che mi grazie che mi chiamassero da Londra per mettere in piedi organizzare e dirigere un progetto che riguarderà tutto il mondo e quindi quello che posso dire io è che sono ormai 15 anni che mi dedico con passione a questo filone di ricerca e sono arrivato a una conclusione che il vero problema non è l'esistenza o l'inesistenza di Dio ma il problema sono le religioni istituite il cristianesimo il cattolicesimo e adesso lo dico senza alcun timore l'islam chi ha creato grattacabio all'umanità non è questo ipotetico Dio ma sono queste religioni e chi al loro interno si spaccia come rappresentante di Dio in terra combatto il cristianesimo nel mio piccolo combatto l'islam scriverò presto verrà fuori presto anche un libro sull'islam perché lo ritengo il pericolo montante capisco che non è politicamente corretto oggi come oggi fare un'affermazione del genere ma mi sento di farla nel caso del cattolicesimo nel caso del cattolicesimo ecco è il nostro problema attuale il problema più grosso credo che tutti noi siamo chiamati a dare il nostro piccolo contributo io dico non facciamo gli anticlericali da salotto impegniamoci in prima persona non lasciamoci dire che problema ti dà il cattolicesimo no il cattolicesimo ci porta via soldi quando parliamo di di icci il cattolicesimo impone l'ora di religione ci impone la sua presenza negli ospedali nelle caserme bisogna fare assolutamente qualcosa contro tutto questo e poi c'è il problema degli abusi della pedofilia clericale scusate se forse vado fuori un po' tema ma è un argomento al quale sono particolarmente sensibile e anche qui cercheremo di mettere in cantiere qualche cosa chiudendo e tornando alla domanda il risveglio delle coscienze è certo che è iniziato è iniziato ed è secondo me è inarrestabile e in questo devo dire che uno editori di cui mi onoro di fare parte sta facendo sta recitando un ruolo di primissimo piano la domanda è il risveglio delle coscienze è realmente possibile personalmente metto sempre il dubbio davanti a tutto mi chiedo cosa intendiamo per il risveglio delle coscienze sicuramente in atto sicuramente come diceva Mauro come dicevano chi mi ha preceduto negli ultimi anni sicuramente c'è stato un cambiamento che direi è stato ed è epocale perché veramente si sono smosse come mai prima le acque su determinate tematiche determinati argomenti e sempre più persone stanno aprendo gli occhi poi è un processo che per me personalmente il mio punto di vista sarà molto lungo perché comunque sia i poteri forti le realtà forti che possono essere il Vaticano le istituzioni i gruppi di potere e quant'altro sicuramente aumenteranno sempre di più la loro egemonia se mi passate il termine prima fumando fuori si parlava con alcune persone dei cellulari peggior strumento di controllo di tracciamento per ognuno di noi non esiste per cui se da una parte c'è un risveglio dall'altra stanno aumentando anche i mezzi per controllarci o come anche Facebook tenerci sotto controllo o instradarci per cui sarà una lotta difficile lunga come la penso io ma prima o poi sicuramente ce la faremo io penso che la risposta sia sia questa più che questa perché si può stare su un palco a dire tutto ciò che si vuole il problema e poi sempre avere dall'altra parte degli interlocutori curiosi che magari poi un giorno saranno qui anche loro a proporre le proprie le proprie idee condividendole con gli altri è l'assemblea la forza io quando ho iniziato a fare satira è proprio perché il mezzo satirico soprattutto la vignetta è immediato è veloce non puoi stare lì ad approfondire l'argomento mi sono subito posto il problema ma poi chi vede la vignetta chi legge chi ride o non ride ma poi dopo va a verificare di che cosa si tratta di che cosa si sta parlando me lo sono posto questo problema e la risposta pian piano non la sto trovando la sto trovando oggi come la vedo in rete con le persone che interloquiscono con me su facebook quindi commentano spesso capita che non siano d'accordo con ciò che dico con ciò che disegno però c'è il confronto e soprattutto sono sempre di più le persone non solo quelli che vogliono bestemmiare random perché gli fa ridere la bestemmia non mi interessa questo mi interessa che ci sia il confronto sono d'accordissimo con lei non c'è nessun morfeus con la pillola blu a meno che non sia un farmacista e allora in quel caso allora che 350 persone decidano di passare sabato pomeriggio a sentire noi è sicuramente un fatto rilevante che in passato come dicevano altri relatori non era così e è un qualche cosa che è un onore un onere per noi perché abbiamo piacere di avere sempre maggiore successo per le ricerche che facciamo ed è un invito a cercare sempre di fare ricerche serie con metodo entro certi limiti io mi occupo in ambito lessicale epigrafico cercando sempre di usare un metodo galileiano di prove di controprove se non si è sicuri ragionare per assurdo eliminare le possibilità negative di una determinata teoria e poi il fatto stesso che ci sia da parte delle persone un così grande interesse è un processo lento perché non basta soltanto venire alle conferenze questo lo sosteneva anche Mauro qualche anno fa e questo fenomeno si sta verificando perché deve scattare anche nelle singole persone la voglia di controllare di prendersi i testi citati in bibliografia quando noi scriviamo le bibliografie sembra che siamo molto precisi ma a volte la prefazione non viene letta la bibliografia neanche si legge la conclusione anzi ho sentito che alcuni lettori vanno a leggersi la quarta di copertina e guardano la conclusione e in base a questo comprano il libro o meno il fatto comunque di voler iniziare a guardare e vedere dice guarda il tale autore citato in quel punto lì dice questo ma io questo libro ce l'ho no me lo posso comprare voglio vedere già questo è un passo avanti ed è un processo lento costante e continuo di cui cominciamo tutti ad avvertire la presenza ed è molto bello perché venire alle conferenze è un primo passo ma deve scattare qualcosa in ognuno di voi a confrontare e dire nel mio piccolo l'autore X ha detto questo e se fosse qualcos'altro vediamo se ha detto anche il vero o quantomeno se la stessa autore ha detto o ha confermato determinate cose per questo ci vuole del tempo ma il tempo è sovrano in questo caso si sta iniziando a verificare quindi 350 persone iniziano anche loro a guardare ad approfondire gli stessi testi e questo ripeto è un onere è un onore per noi molte volte mi sono chiesto dice Michele ma perché fai tutto questo perché da ragazzo andavi a guastare i recinti dove mettevano dentro gli animali selvatici così la gente andava a fare il barbecue col bambino ah vedi là c'è il dino io la notte andavo rompevo i recinti perché ti schieri contro il mondo della caccia perché 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 ho fatto questa vita l'ho fatto per me devo essere sincero ad un certo punto il percorso di un alchimista ti porta a essere spietato dici lo fai per il bene dell'umanità non te ne frega niente dell'umanità a me personalmente dell'umanità se voglio fare un bel lavoro non me ne deve fregare niente perché là fuori c'è un mondo che è totalmente diverso da noi è vero stiamo crescendo siamo sempre di più siamo sempre di più una cosa così era impensabile ma là ci sono persone che non ne vogliono proprio sentir parlare delle nostre cose e anzi se andiamo là fuori e non qui dentro a questo recinto protetto a dire chi siamo rischiamo tanto rischiamo grosso allora come posso fare quadrare quest'opera ebbene io penso che il risveglio c'è in questi termini che ci sono persone che vogliono fare un certo percorso che hanno gli strumenti anche grazie al lavoro che facciamo anche grazie al fatto che questo pianeta è diventato qualcosa che prima non era ecco quella quantità di persone lì sta iniziando un percorso un processo ce n'è un'altra che non verrà minimamente sfiorata da quella parte quindi noi diciamo sempre quelli che vengono dalla mia tradizione la tradizione ermetica tu sei l'unico responsabile di ciò che provi non andare a cercare non andare a cercare che è colpa di quello là non metterti a fare il salvatore poi ci fa anche certe finanze a fare il salvatore c'è una parte di mondo che non vuole essere salvata tu curati del tuo curati del tuo la più grossa prigione che ho incontrato e che per me rappresenta il vero recinto della mia schiavitù è la mia macchina psicobiologica questo è il mio cosmo i pitagorici sono chiari in questo tanti cosmi l'essere umano è un cosmo dentro un cosmo più grosso che il pianeta Terra se faccio un buon lavoro sulla mia macchina penso di aver fatto tutto quello che posso fare e penso di aver prestato il maggior servizio possibile a tutti gli altri wow grazie grazie dire che con questo su questa onda energetica possiamo riprendere possiamo riprendere in mano il nostro discorso allora Chiara ci vuoi dire due cose sul contest su come è andata abbiamo raccolto le domande dal pubblico abbiamo una a testa per voi attraverso questo contest ci molto brevemente abbiamo fatto questo contest che è stato gradito a quanto pare dove ognuno anche i non presenti avevano la possibilità di fare una domanda di mandarcela via mail e abbiamo scelto otto domande ognuna per il relatore e quindi queste domande sono fatte da voi arrivate via mail da voi grazie mille quindi noi abbiamo deciso di tenerle così giusto qualche aggiustamento della grammatica ma fondamentalmente il senso è rimasto proprio tale e quale alcune sono anche un po' lunghe perché giustamente sono il frutto di un pensiero allora cominciamo con Don Alemanno sarei io yes continui a essere tu hai avuto prova di resistenze da parte degli organi ecclesiastici ti è capitato che qualcosa ti venisse boicottato allora boicottato no però c'è un aneddoto relativo a un evento che feci per Mondadori a Milano pubblicai questa graphic novel diciamo una storia autoconclusiva sempre del mondo genus per Mondadori e quindi organizzarono questo evento in corso Vittorio Emanuele a Milano e aprendo la vetrina della Mondadori diciamo organizzando una specie di c'era un inginocchiatoio quindi le persone potevano andare potevano confessarsi e io in base alla confessione facevo la dedica però una roba strana vabbè lasciate stare ero vestito da prete c'avevo due tizie con le ali d'angelo due modelle sì 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 si inginocchiavano assolutamente tutti tutti si inginocchiavano una roba pazzesca che succede che questo evento ovviamente è stato pubblicizzato online e all'interno di un forum di sedicenti cattolici perché secondo me uno se è veramente cattolico non dice quelle stronzate che ho letto in quel forum scusate ma cosa fanno questi si organizzano per venire all'evento e boicottarlo secondo loro il problema qual era che c'era in contemporanea il gay pride quindi dove vai vai da Don Alemanno o vai al gay pride hanno diviso le truppe quindi il 50% venuto da me è restante al gay pride al gay pride probabilmente non sono stati particolarmente notati li avranno coinvolti in sicuramente questo lo dici tu ma sono venuti da me con questo contingente e si sono piazzati dall'altra parte quindi sotto i portici però dall'altra parte della Mondadori dall'altra parte della strada e hanno fatto una cosa fantastica perché mia madre che dalla Sardegna è venuta a Milano per vedere l'evento mi ha detto vabbè ma l'hai organizzata tu questa cosa è una roba tua ho detto no ti giuro ma no è vera è una cosa vera hanno fatto hanno recitato il rosario cioè l'evento è durato tre ore e questi hanno fatto tre ore di rosario con tanto di crocifisso così dall'altra parte che mia madre ha detto mi avvicino a spiegargli che sei bravo gli ho detto no ma stai qua falli fare e marketing lascia fare no e tant'è che poi studio aperto aveva fatto questo servizio su questa cosa qua e tuttora i miei genitori dubitano che fosse realmente una cosa organizzata da loro della veridicità di questa cosa pensano che fosse in realtà una mia mossa di marketing però a parte queste stupidaggini per il resto non hanno mai fatto nulla di particolare ecco boicottaggi veri no so di avere molti seguaci tra i seminaristi sì perché sì perché a Roma sono arrivati dei ragazzi tra cui uno anche un bel ragazzo uno altro che io così gli ho fatto la domanda gli ho detto senti ma tu dimmi la verità ma quanto e lui non posso sono in seminario sei in seminario perché sei qui da me ah perché ti seguiamo quanti siete tant'è che ho detto fammi vedere una prova fammi vedere qualcosa aveva l'ingresso al seminario in Vaticano aveva il tesserino per entrare era vero e pare che siano una decina lì che comprano le mie cose se rinascondono come facevate voi con i giornaletti porno loro fanno con i miei però pazzesca quindi pazzesco don Alemanno che notizia se avrai la diffusione del che ha avuto il porno all'interno dei seminari qui la rivoluzione veramente genus is the new porno abbiamo tutto in mano grazie don allora qui c'è una domanda molto lunga per Mauro spero di leggerla bene perché è un po' arzigogolata ma so che sei abituato a tutto allora perché Yahweh ha bisogno del fumo del grasso per calmarsi una soluzione rozzissima quando già noi attualmente sappiamo fare di molto meglio mettendomi nei panni di questi Elohim da te descritti le soluzioni da loro adottate per risolvere alcuni problemi sembrano molto rozze e non prodotte da un popolo molto avanzato possibile che non potessero creare automi per lavorare possibile che educassero alla guerra e fossero così sadici nei confronti delle loro creature una mia considerazione penso che una civiltà così crudele si sarebbe autodistrutta molto tempo prima di arrivare ad avere la capacità tecnica di fare quello che ha fatto sì in realtà non è una domanda è qualcosa di decisamente più articolato allora intanto a questa domanda dovrebbero rispondere gli autori biblici nel senso che io come sapete racconto ciò che c'è scritto nella Bibbia quindi se ci sono delle cose che non convincono uno dovrebbe dire ma perché le avete scritte e purtroppo non ci sono più e allora tocca a me cercare di spiegarlo quindi non voglio fare l'avvocato difensore ovviamente degli autori biblici ma dico semplicemente questo che quando noi parliamo di Bibbia prima Enrico ci diceva quanto fosse vasta la letteratura indiana quando noi parliamo di Bibbia parliamo di un manualetto qualche volta l'ho definito il manuale delle giovani barmotte cioè di un libro che un piccolo popolo ha scritto per mantenere la memoria di se stesso e per affermare se stesso nella storia quindi quando noi parliamo della Bibbia non parliamo della civiltà degli Elohim ma parliamo di quello degli Elohim che si è occupato di quel popolo lì comunque fosse costituito quel popolo quindi non possiamo e non dobbiamo commettere l'errore di fare una generalizzazione cioè dire questa era quella era quindi una civiltà crudele una civiltà che si sarebbe annientata una civiltà che non sapeva fare certe cose no la Bibbia ci parla di quello lì che non era neppure uno dei più importanti quando noi poi leggiamo come ci suggerisce Enrico i racconti di altri popoli della terra ci accorgiamo che per fortuna quella civiltà era molto più ricca complessa articolata di quella che ci viene rappresentata dalla Bibbia la Bibbia è una finestrina su un piccolo su un piccolo insignificante diciamo così poi forse insignificante non è perché però questi sarebbero altri discorsi per quello che magari c'è lì sotto in quel territorio e quindi forse insignificante non è ma comunque riguarda quella finestra del pianeta Terra quindi dire che quella civiltà si sarebbe annientata vuol dire dimenticare che i greci gli ezizi gli stessi indiani ci parlavano di quelli di loro che amavano la musica la cultura la letteratura la bellezza l'arte c'erano tutti erano tutti rappresentati noi abbiamo il racconto di un militare di un feroce militare che secondo me andrebbe messo sotto processo esattamente con le stesse categorie giuridiche con le quali sono stati processati i gerarchi nazisti le stesse categorie giuridiche quindi quello che è stato fatto diventare Dio secondo me dovrebbe finire in un processo come quello di Norenberg non ho dubbi su questo non ho nessun dubbio ripeto con le stesse categorie giuridiche applicate ai gerarchi nazisti a Norenberg compreso quello del principio della retroattività della applicazione della legge che è stato inventato proprio appositamente per Norenberg perché altrimenti non avrebbero potuto condannare ecco andrebbe applicato a lui quindi noi non dobbiamo generalizzare quindi se lui utilizzava i suoi per i suoi fini personali e quindi siccome si faceva procurare il cibo e nel procurarsi il cibo c'era anche questa produzione di fumi ben venga lo fanno molti governanti nel senso che fanno lavorare il loro popolo lo mettono alla prova una cosa che per esempio adesso stanno cercando di cancellare dal padre nostro tanto per cambiare di nuovo avete sentito no? ecco cioè adesso cambieranno una frase del padre nostro perché finora ci hanno sempre detto non indurci in tentazione e adesso non abbandonarci alla tentazione è un'altra falsità palese perché lì c'è di nuovo il legame logico con tutto il comportamento di Yahweh Prima che quindi spiega come mai lui si facesse preparare il cibo dai suoi come mai appunto lui nel farsi preparare il cibo facesse in modo anche di avere questo fumo che era uno degli effetti comunque come dire necessariamente prodotti dalla produzione del cibo e in realtà li metteva costantemente alla prova e questo dice quella frase del padre nostro che stanno cercando di cambiare per nascondere di nuovo un altro aspetto e poi perché utilizzavano quelli e finisco subito perché utilizzare degli schiavi umani invece di robot costa costava infinitamente meno costano niente soprattutto se gli produce un cibo che li consuma e quando li rompono quando si rompono li butti via un robot chiede comunque manutenzione quindi adesso noi stiamo mettendo i robot nelle fabbriche perché i lavoratori non sono più schiavi e avanzano dei diritti allora non esisteva questo discorso quindi qualunque schiavo costava infinitamente meno di qualunque macchina avessero potuto costruire quindi era il comportamento più intelligente grazie grazie Mauro sempre puntuale Mirella cambiamo scenario quindi dall'energia maschile di questo Elohim ci puoi far sognare perché la tua domanda è questa dottoressa Santamato com'era la civiltà delle madri cioè il remoto mondo preistorico in cui il culto della grande madre era presente ovunque bene su questo gli storici occidentali che sono poi gli unici che in realtà hanno parlato e scritto di questo periodo l'hanno rifiutato cioè è un lunghissimo periodo in cui l'umanità ha vissuto in pace senza guerre e non era propedeutico a un sistema che invece voleva imporre la guerra e il conflitto come perenne condotta umana in quanto con il conflitto si crea dominio quindi cosa hanno fatto hanno semplicemente detto e affermato su libri grandi molto importanti che tutti questi millenni di storia umana senza conflitti non esistevano e ci sono state delle battaglie nel secolo scorso molto importanti fatte da archeologi e archeologhe da scrittori e da teorici e anche da storici molto accreditati che invece hanno studiato queste antiche civiltà qual era la cosa a cui veniva rimproverato diciamo a queste antiche civiltà di non avere una scrittura ora in realtà le scritture le avevano è semplicemente che noi non siamo in grado ancora di decifrarle sono delle specie di segni che sembrano quasi dei pettini e che effettivamente vengono riportati in tantissime statu in tantissimi templi vengono riportati a Malta a Creta in tutti questi antichi posti dove c'era questa credenza molto pacifica nella Dea Madre e che in realtà è semplicemente una nostra ignoranza non averli decodificati non che perché siccome non li abbiamo decodificati quindi non erano scrittura questa è la prima cosa incredibile poi la devianza patriarcale di non accettare che le donne fossero dei esattamente come gli dei maschi perché appunto come dice giustamente Mauro nella Bibbia c'era un'imposizione di un militare che quindi doveva fare le guerre ed era importante che i maschi andassero in guerra questa era l'unica cosa importante lavorassero come schiavi per loro punto quindi le donne che invece non avevano questi concetti erano ovviamente da emarginare questi antichi periodi in realtà non solo sono esistiti ma sono esistiti per 10-15 mila anni abbiamo dei reperti archeologici enormi andate a Malta nei famosi templi della Dea che dall'alto pensate bene quindi evidentemente un po' come le linee di Nazca hanno la figura proprio femminile si vede la testa i due seni e le due cosce grandissime è tutto molto tondo il nuraghe in Sardegna il mio amico Santa Cristina per esempio eccetera sono tutti templi megalitici antichissimi dedicati in modo veramente quasi imbarazzante quanto sono semplicemente la rappresentazione di una vagina con in fondo un pozzo sacro una sorgente d'acqua perché l'acqua era cara alla Dea e che quindi questo era considerato sacro perché? perché senza acqua non c'è vita era molto semplice la cosa per cui l'acqua senza una madre non ci sarebbe vita per cui è chiaro che tutto questo era semplicemente sacro cosa hanno fatto le culture successive patriarcali? hanno demonizzato esattamente questo cioè l'unione tra uomo e donna solo lì dove si nasceva la vita lì doveva colpire il patriarca e il patriarca ha creato il famoso peccato originale semplicemente perché il sesso l'eros deve essere ucciso ma questo è questo conflitto diciamo tra energie è durato migliaia di anni a tal punto questa distorsione della visione patriarcale è così feroce è stata così devastante che non solo non sono stati scritti tutti questi libri se non ultimamente grazie al risveglio delle persone ma anche degli stessi simulacri della dea famosissimi tra cui ricordo la statua che avrete visto tutti di Astarte che ha cento seni e poi ha dei bambini sulle braccia ha la torre sulla testa e tutti gli animali diciamo tutte le gambe sono formate da animali bene questo è evidente che è la madre la mater della natura bene ovviamente in una visione patriarcale quei seni erano testicoli basta non dico altro finale perfetto non se ne può più allora Daniela la domanda per te è a proposito della razza di giganti che ha popolato la terra in età remotissime e che per i miti le leggende e anche molti ritrovamenti archeologici ha costruito i megaliti e molti altri edifici di culto secondo te questa razza di giganti semileggendari è realmente esistita? cosa ci puoi dire a riguardo? dei giganti sono esistiti indubbiamente anche perché sono stati trovati in vari luoghi della terra delle ossa dei teschi e che poi sono stati ricostruiti e sono stati trovati degli scheletri giganti per esempio a Malta per esempio in Perù in Ecuador beh in Sardegna in Ecuador addirittura c'è una località di cui non ricordo il nome ma ricordo comunque il significato della sua traduzione significa cimitero degli dei lì c'è stato un prete cristiano che è morto una ventina di anni fa che aveva creato proprio una collezione perché lui aveva trovato tutte queste ossa tutti questi teschi li aveva ricostruiti e quindi aveva questa collezione di scheletri simili a noi ma molto più grandi della misura di 7 metri poi con la sua morte sono stati in parte messi in alcuni musei del mondo altri in collezioni private di qualcuno poi si è perso la traccia e sono spariti e non si sa che fine abbiano fatto però comunque sono la prova è chiaro che anche in questo caso la scienza la religione e tutti gli altri la storiografia eccetera non sanno come gestire questa anomalia e quindi gli affibbi al nome di misteri ma non sono misteri sono prove sono prove che c'erano che sono esistiti chissà quando ma del resto anche la Bibbia ne parla la Bibbia no Mauro mi conferma parla degli anachim dei nephilim e li descrive proprio per la loro statura addirittura gli anachim visti dall'uomo esatto sì ma esatto ma per esempio quando Mosè mandò i suoi soldati per l'ustazione e questi tornarono impauriti perché avevano visto gli anachim che li descrissero cioè loro si vedevano rispetto agli anachim piccoli come locuste e quindi erano piccolissimi anche i nephilim sono della stessa stessa quindi comunque ci sono stati e naturalmente sono la prova che ci sono state l'altra parte c'è anche da dire una cosa che certe costruzioni megalitiche straordinarie possano essere state costruite da esseri molto grandi se ci pensiamo bene è anche un po' logico come ad esempio nel caso di Balbeck noi non sappiamo esattamente la misura di quelli che li hanno costruiti però certamente è molto probabile anche che fossero di una statura ben diversa dalla nostra abbiamo parlato di Malta e dei dei templi della Dea bene la tradizione maltese dice che era una gigantessa e di fatti si chiama gigantia loro lo chiamano gigantia che questa gigantessa con un bambino sulle spalle era talmente forte questa Dea questa donna che poteva trasportare le pietre con l'altra mano da una parte aveva il bambino e dall'altra la mano che ricostruiva questi questi templi quindi questa è la tradizione è proprio una gigantessa occhio ragazze perché qua la vedo dura secondo sola proprio parlavano di Malta c'è un sito al Sapieni dove sono stati trovati questi teschi enormi con una capacità celebrale il doppio della nostra ma anche proprio grandi che avevano la caratteristica non avevano non hanno la struttura mediana e quindi di conseguenza facevano proprio parte di una razza diversa e teschi di quella misura prevedevano anche ovviamente degli scheletri proporzionati a quella misura poi a un certo punto mi sembra nell'84 sono spariti prima erano al museo di Malta la Valletta poi sono spariti e naturalmente saranno stati messi in qualche scatolone nei magazzini fatto sta che sono spariti grazie mille questo femminile che non ci sta e andiamo avanti allora abbiamo una domanda tu Massimo ci porti in Egitto una domanda per te microfono ce n'è soltanto più uno va bene sì 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 allora Massimo perché le tre piramidi d'Egitto c'è Francheope e Micerino situate nella piana di Giza sono state allineate alla costellazione di Orione bene questo fa parte della teoria di Boval che è molto originale ha grossi margini di veridicità c'è qualche punto su cui alcuni diciamo critici hanno trovato delle falle però globalmente direi che sostanzialmente è possibile che sia del tutto vera o almeno buona parte parliamo di Orione Orione era una stella era una costellazione fatta di sette stelle molto importante tuttora noi la possiamo vedere nel cielo meridionale se guardiamo verso sud dalle vostre case se non c'è troppo inquinamento luminoso possiamo vedere le sue sette stelle fatte a forma di clessidra ed era per gli egizi una costellazione di snodo un vero e proprio radio faro perché se prendiamo le stelle della cintura che sono poste in diagonale ci spostiamo in basso a sinistra arriviamo a Sirio Sopedette cioè la stella acuta la stella del cane maggiore collegata ai cicli della fertilità e dell'inondazione se ci spostiamo verso in alto a destra otteniamo che raggiungiamo la stella Aldebaran la stella Sar altra stella molto importante corrisponde all'occhio del toro per gli egizi era chiamata Sakh il dio camminatore in tempi tardi dal nuovo regno al periodo tolemaico identificato anche con Orione era una stella era una costellazione molto importante per gli egizi perché compare già nei testi delle piramidi che fanno parte della letteratura più antica che ci è giunta secondo alcuni si parla di periodo oscillante tra il 4000 e il 4200 avanti Cristo quindi era conosciuta già in tempi antichissimi e per la sua posizione vicino alla via Lattea vicino a queste stelle era abbinata a delle costellazioni cosiddette meridionali che non erano visibili nell'orizzonte perché perché come gli ebrei gli egizi cominciavano l'anno dall'equinozio di autunno abbinato per gli egizi alla piena del Nilo e per gli ebrei con il Rosh Hashanah cioè la capo dall'anno testa dell'anno iniziava in quel periodo e Orione come tutte le costellazioni invernali era non visibile questo ha creato l'associazione con il Duat con il mondo infero con il mondo dei morti il mondo degli spiriti in cui peraltro qualche volta lo stesso faraone veniva ospitato ed andava a vedere come capitava peraltro con il Gan Eden dove nove persone sono riuscite ad andare da vive e sono tornate anche il faraone da vivo è tornato quindi ci sono poi dei testi delle piramidi che ci riferiscono che Orione era situato molto vicino al luogo da cui venivano gli dei perché c'è una formula che dice tu ipotetico visitatore vai nella via Lattea quando questa è allagata loro lo chiamavano la water winding way cioè la ventosa via d'acqua cioè quando questa è visibile e quando sei nei pressi dell'orizzonto orientale troverai la patria dei Netero cioè la patria dei loro dei l'isola del fuoco dell'isola delle fiamme non troppo distante dalla costellazione di Orione quindi è evidente che per gli antichi egizi la costellazione di Orione era proprio come peraltro anche adesso è uno snodo astronomico di estrema importanza e vediamo che anche in altre popolazioni c'era un interesse particolare qui anche Enrico con gli studi della mappa di Devenport lo conferma c'era una attrazione verso questa costellazione perché da qui si poteva andare avere una specie di mappa del cielo di planimetria quindi la teoria di Boval giunge a diciamo incrementare un certo tipo di interesse di nozioni anche se ripeto alcune piccole cose non collimano proprio grazie Massimo oramai siamo dentro i tempi in modo perfetto siamo una macchina da guerra fantastico la prossima è per Giuseppe allora Giuseppe mettiti le cuffie sei pronto? tre minuti allora il titolo re dei giudei affibbiato a Joshua detto poi Cristo che comparirà nel titulus della croce in realtà potrebbe avere un altro significato ed un'altra origine piuttosto che quella attribuita agli dai cristiani siccome già i re magi seguaci dello zoratrismo conoscevano questo appellativo e siccome non è noto come essi ne siamo venuti a conoscenza ti chiedo se si conoscono altre piste della genesi di questa parola e se la si possa ritenere vicina agli antichi astronauti anche questa è lunga cercherò di stare nei tre minuti passiamo dai giganti a un anetto perché essendo le pochissime testimonianze dei padri della chiesa pare che Gesù non fosse propriamente un nefilim ma piuttosto bastino di statura allora vado al sodo e sì senz'altro l'espressione re dei giudei non ha il significato che gli viene attribuito comunemente dai cristiani il titulus crucis in particolare che ho visto non so se siete mai capitati nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma il titulus crucis è la famosa insegna con la scritta Inri Iesus Nazarenus Ieclex Iudeorum ecco guarda caso l'esame del radiocarbonio l'ha datato al XIII secolo ma al di là di questo a mio avviso si è verificato quello che nel mio libro La creazione di Gesù e del Nuovo Testamento definisco scivolamento semantico il significato originario di Messia quindi di Messia appunto è quello di re è quello di o meglio aspirante re capo politico liberatore che doveva appunto liberare Israele dal gioco romano è stato poi il cristianesimo a far scivolare questo significato verso una dimensione più spirituale re in quanto salvatore in quanto redentore portando questo regno da un ambito puramente terreno a un livello a un livello celeste ma il titulus crucis secondo me insieme a tanti altri indizi di cui guardate se leggete i Vangeli veramente ne sono disseminati punta chiaramente verso un'altra direzione che è quella che su quella croce finì un uomo non voglio dire Gesù perché vai a vedere la genesi di questa figura quali strade tortose ha seguito ma su quella croce finì un finì qualcuno che si era messo a capo di un movimento del movimento Zelota il cui il cui scopo era chiaramente politico e tutt'altro che spirituale è un'ipotesi che troverete chiaramente troverete puntualmente snobbata nei libri degli accademici ma che se andate a ben vedere e non lo dico io lo dicono tanti probabilmente è l'unica percorribile per spiegare chi fosse realmente questo Gesù storico quale o quali figure si nascondessero dietro di lui e Remaggi la domanda dice anche i Remaggi conoscevano questo appellativo qui mi limito a dire ma la storiella dei Remaggi è vera dobbiamo crederci probabilmente no è soltanto un episodio puramente inventato inserito nei Vangeli potrebbe avere dei significati simbolici ma io non ci credo quindi non sta su l'idea che loro conoscessero il reale significato di questo termine lo possiamo legare all'ipotesi paleoastronautica questa è l'ultima parte della domanda credo di no ritengo che la storia raccontata dai Vangeli sia tutta un'altra vicenda difficilmente collegabile a quello che si dice nell'Antico Testamento anche perché la Chiesa ha voluto creare un nesso tra Antico e Nuovo Testamento che secondo me per tante ragioni non si regge in piedi quindi terrei ben distinto il discorso ipotesipale o astronautica dalla vicenda re dei Giudei grazie Giuseppe ora abbiamo ancora spazio per Enrico e Michele Enrico allora Enrico ti vorrei chiedere se esistono precisi riscontri cronologici dei grandi eventi determinanti la storia umana partendo dall'inizio repentino della fine dell'ultima glaciazione anche se non ancora completamente ultimata intorno al 10.500 avanti Cristo ho studiato almeno tre diluvi universali in tempi molto lontani tra loro e con dinamiche estremamente diverse fino ad arrivare ad un dato della geologia che fissa nel 2024 avanti Cristo la catastrofe della Pentapoli di cui facevano parte Sodoma e Gomorra come fare un po' di ordine la prima cosa che si fa in un'indagine è tracciare la linea temporale illuminami come la folgore ti chiede lui e temporalmente dove si collocano le grandi creazioni monolitiche che sempre più vengono ritrovate nel mondo intero scegli a che cosa vuoi rispondere è un domandone esatto lui era però era così illuminami come la folgore parto dalla fine cercherò di sintetizzare al massimo le creazioni monolitiche si trovano in tutto il mondo e il bello è che non se ne parla le troviamo anche i megaliti in India ed è pieno c'è stata una cultura megalitica che ha pervaso l'intero pianeta in tutto il pianeta costruito per diverse ragioni ci sono tante ipotesi interpretazioni questi oggetti ha eretto questi monoliti per quanto riguarda l'ultima glaciazione sì ufficialmente la paleoclimatologia lo studio del passato del clima del passato ci dice che finisce con l'epoca vurmiana nel 10.500 a.C. questo sia gli egiziani sia tantissimi alti popoli lo hanno codificato nei loro testi e la cosa curiosa e assurda è che abbiamo anche prove archeologiche di una almeno civiltà precedente mi riferisco a Gobleki Tepe perché penso la conosciate tutti nell'odierna Turchia che è un sito che oggi è stato ancora retrodatato al 14.000 a.C. è una collina di templi che sono stati ricoperti non si sa perché andando in India che è il luogo che studio da tantissimi anni da circa una ventina d'anni ormai perché si parla agli inizi del 2000 sono stati scoperti in tutto il litorale costiero indiano ed è un subcontinente con un miliardo e duecento milioni di persone per cui è immenso sono state trovate intere città sommerse mi riferisco a Dvarca la mitica città di Krishna nel golfo di Kambay una città datata a radiocarbonio e con la termoluminescenza al 9500 a.C. a Mahabalipura Mepun Puar dove esistono leggende antichissime che parlano di un continente sommerso chiamato Kumari Kandam quello che è il mito la tradizione del popolo indiano sembra avere trovato e stare trovando sempre più conferme in quello che è l'archeologia moderna e scoperte quasi casuali in certi casi veniva citata la data del 2000 a.C. ed è interessante perché sembra proprio con Mauro ne abbiamo parlato tantissime volte uno spartiacque tra il primo e il dopo la civiltà della valle dell'Indo la civiltà rappa quella di Moenjodaro finisce più o meno tra il 1900 e il 2000 a.C. 1200 città e Moenjodaro ospitava almeno 100.000 abitanti un numero enorme in quell'epoca lasciano praticamente tutti questi insediamenti urbani e non si sa dove vanno a finire in Mesopotamia abbiamo le tradizioni di guerre tra dei dove si parla dell'utilizzo di armi Moenjodaro non l'ho detto poco fa è una delle tante città della valle dell'Indo viene spopolata ma nella zona sud per chi ha seguito un po' le ricerche che faccio da un po' di anni è successo qualcosa ricollegabile al Ramayana e troviamo i segni che abbiamo anche analizzato di eventi di guerre che hanno portato alla distruzione della città e poi troviamo un sito che è stato identificato ormai da una decina d'anni a questa parte come la Sodoma biblica tale la Mamma a nord del Mar Morto dove guarda caso troviamo gli stessi residui uso questo termine che troviamo a Moenjodaro e che sono stati identificati anche in Mesopotamia cioè rocce fuse da un evento esplosivo a Moenjodaro ho portato con me non potendo ma diversi campioni e almeno quattro laboratori tra cui tramite i storicianne l'uno negli Stati Uniti hanno dato gli stessi risultati pietre oggetti scusate di uso comune ceramiche porcellane oggetti di argilla che sono stati sottoposti per 4-5 secondi a una temperatura vicina ai 2000 gradi non c'è una spiegazione non sono scarti di fusione ovviamente devo sintetizzare sono il frutto di un evento anomalo esplosivo tale la mamma la presunta sodoma biblica nella zona sud della città anche qui gli stessi oggetti ma analizzati dall'archeologia ufficiale questi oggetti hanno dato dei valori ancora più alti temperature vicine ai 6000 gradi quasi come la corona esterna del nostro sole in Iraq in Mesopotamia non è tanto facile andarci oggi e quindi fare degli studi sul posto però abbiamo in tutti e tre i casi Pakistan Israele o comunque nord del mar morto e Mesopotamia lo stesso periodo 2000 avanti Cristo la fine di tre civiltà e soprattutto tre tradizioni differenti che ci parlano di guerre tra dei che coinvolsero anche gli uomini e che in certi casi come nel caso indiano portarono a ritorno da dove erano venuti se non si sono nascosti e sono rimasti qua comunque degli dei dal luogo di provenienza per cui tre miti tre tradizioni ma con prove archeologiche concrete che sono inoppugnabili e non possono essere in nessun modo smentite bene mi sembra che il tenore degli applausi sia decisamente tenore degli applausi decisamente alto quindi seguiamo questo flusso chiudiamo con Michele questo primo giro allora Michele anche per te io ti leggo la domanda e poi tu vai secondo ispirazione non pensi che oramai dopo tanti secoli dire la verità alle persone e quindi sulla vera storia del mondo e del nostro ruolo evidente di pecore potrebbe portare ad una lotta civile globale la pia frode forse viene ormai necessariamente mantenuta per evitare una tragedia umana personalmente non credo però volevo sapere se potevi considerarla una possibilità un caro saluto grazie probabile non prendo alcuna verità probabile probabilissimo questo come probabilissimo anche il contrario sinceramente mi interrogo su quello che può essere il valore della vita quando ci si pone di fronte a eventi che possono essere di natura catastrofica quanto io sia attaccato a questa vita e che valore io dia a questa vita se mi dicono guarda state boni come diceva Costanzo perché evitiamo il marasma totale mi viene anche da dire ma più marasma di questo che cosa deve succedere cioè il pollo nell'allevamento sostanzialmente sta bene protetto c'ha da mangiare tutti i giorni c'ha l'acqua poi fa una finaccia però la sua vita la fa bella se tu gli vai a dire al pollo guarda pollo c'è un buco nella rete esci liberati là fuori la tua vita ha una ha una vibrazione diversa e il pollo ti dice guarda ma fuori c'è la volpe da fuori io non ho più neanche gli strumenti per andare a mangiare da fuori non mi posso difendere da fuori c'è l'inverno quindi sinceramente io dico la mia proprio a lingua libera che si protragga una sorta di pax romana eterna sinceramente non mi stimola tanto ben venga al casino se deve servire a qualcosa ben venga al casino anche perché e questo la natura ce lo insegna ce lo insegna nei piccoli cicli giorni e notte ce lo insegna nei grandi cicli stagionali e nelle grandi ere tutto nasce dal caos e soprattutto non c'è atto costruttivo più potente dell'atto distruttivo lo sanno anche in economia se vuoi far ripartire l'economia serve una guerra se vuoi far rinsaldare una coppia serve un bel litigio se vuoi far vedere qualcuno che c'è qualcosa che non va devi fargli toccare col cuore il vero significato della paura cioè la perdita non mi spaventa niente ben venga tanto ne abbiamo viste tante perdere questa parvenza di libertà forse potrebbe essere una grossa liberazione wow grazie veramente allora stiamo andando verso la fine quindi abbiamo ancora un ultimo giro è un giro che vi chiedo di fare un po' più di pancia un po' più di quello che vi arriva è una domandona è la domandona che sicuramente tutti qui ma anche non qui ci siamo fatti almeno una volta nella vita e entra più in quello che è il vostro sentire personale però con tutta la vostra conoscenza e il percorso che avete fatto può essere anche interessante come carellata vi chiederei un due minuti visto che è di pancia quello che arriva non più di due minuti a testa così riusciamo poi a chiudere in tempo perché è anche molto bello iniziare e finire insieme senza che si cominci poi a perdere il filo allora la domanda molto pop è questa qui io direi che possiamo cominciare da Michele e poi ci passiamo il microfono e chiudiamo con te secondo voi a livello personale c'è vita dopo la morte o sono tutte assurdità che ci hanno propinato è una cosuccia di pancia come se fossimo tutti amici in realtà lo siamo porto la mia attenzione personale su che cosa può essere la vita e su che cosa può essere la morte secondo me questa è una dimensione noi viviamo in parallelo tantissime dimensioni pensiamo che esista solo questa e la morte è terribile perché finisce tutto se invece magari ci sono tante altre cose che ci è dato anche toccare ogni tanto allora ecco che perde forza anche il concetto di morte e automaticamente perde forza anche il dover vivere per forza pur accettando dei compromessi incredibili a me sinceramente se c'è vita oltre la morte o no non me ne può fregare di meno io so che devo riuscire a recuperare il rapporto con mio padre perché lo amo e tutti i giorni cerco di farglielo capire so che ci sono tanti bei boschi da vedere ci sono tanti bei cuori da emozionare ci sono tante belle cose da distruggere per farle rinascere a me sinceramente per me la morte permettetemelo non esiste c'è questa esistenza e me la voglio godere poi ne riparleremo magari di là dopo ci ridiamo rifaremo un convegno di là grazie 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 per la vostra generosità andiamo proprio di pancia ognuno alla sua visione personale dopodiché ci avete illuminato e quindi è molto interessante avere il vostro punto di vista personale personalmente chiaramente di queste cose non si può avere certezze ma solo sensazioni da piccoli particolari di cose successe di immagini di déjà vu o altre situazioni l'idea che il tempo siano un qualche cosa che ci trascende e che noi abbiamo già vissuto situazioni precedenti per riviverne delle altre quindi un qualcosa che è connesso con la reincarnazione di vite precedenti è un qualche cosa che mi piace considerare chiaramente non si possono avere certezze in questo senso però è possibile che queste cose ci siano da piccoli particolari come sensazioni quindi forse questo mi piace crederlo così a naso penso di sì in realtà non ci penso mai mi ci stai obbligando tu adesso maledetto però credo semplicemente che la forma che oggi è una forma ottima in confronto ad altri periodi sia semplicemente il risultato di una particolare vibrazione degli atomi che mi compongono e di conseguenza non faccio fatica a pensare che dopo la mia morte comunque quella materia a un certo livello energetico vibrerà in una maniera diversa e si manifesterà comunque nella natura che forma prenda non lo posso sapere non ci penso non mi interessa esattamente come diceva lui però non mi turba l'idea non mi turba l'idea che faccia parte poi in futuro di altri corpi spero che non non ci facciano cose schifose con quei corpi però per il resto ecco non lo escludo non mi turba l'idea quindi vivo sereno da questo punto di vista beh rispondendo di pancia la vita di una coscienza è questa che stiamo vivendo ognuno di noi per cui un po' di un'altra cosa ma penso che dobbiamo viverla nel miglior modo possibile questo non vuol dire darsi ai bagordi ma cercare di fare del meglio per noi stessi come individui come uomini donne e fare del meglio per chi ci sta vicino per chi amiamo per le persone a cui vogliamo bene e per l'umanità anche se è un concetto molto alto personalmente non si può essere induisti ma sono vicino all'induista nella reincarnazione credo quello che è il ciclo mi sa che sta finendo la batteria credo nel ciclo del samsara per cui se gli induisti hanno ragione e lo dicono da migliaia di anni ci vengono date più prove più possibilità nel corso delle varie esistenze per migliorarci e migliorare non solo noi stessi ma anche tutto quello che ci circonda diciamo che forse condizionato un po' dal da 50 anni di propaganda cattolica che ci dice di umiliarci e soffrire in questa vita perché tanto avremo la ricompensa dopo non mi convince granché il discorso che ci possa essere qualcosa dopo la morte quindi preferisco godermela adesso chiaramente mi piace mi piace pensarlo mi piace nutrire la speranza che dopo possa esserci qualcosa però se devo essere come dire categorico e sintetico direi direi proprio di no ripeto mi piacerebbe anche che esistesse qualcosa che esistesse la reincarnazione perché senza dubbio entrerei in seminario e diventerei cardinale per scardinare il sistema dall'interno va molto semplicemente di pancia io non lo so cosa ci sia dopo la morte non me ne occupo perché già ho talmente poco tempo per tentare di dare risposte a domande per le quali almeno potenzialmente c'è risposta che non dedico neanche un minuto a questo tema per il quale comunque so che morirei senza aver dato una risposta convincente allora io credo nella reincarnazione assolutamente e di conseguenza più che credere in qualcos'altro dopo la morte ritengo che la morte non esista quella come abbiamo finora quella che abbiamo inteso finora che ci hanno fatto credere la verità è che siamo stati imbrogliati dal mio punto di vista se ho ragione io perché ci hanno fatto credere che è una linea retta nascita e morte invece c'è un ciclo appunto samsara in cui si ritorna a nascere ma non è la legge del karma quindi non è una punizione per per gli errori che abbiamo commessi ma è un modo per completare un percorso che non abbiamo ancora finito di completare e se abbiamo commesso qualcosa di sbagliato è per capire dove abbiamo sbagliato questo è il senso detto questo è provato che intanto siamo fatti di energia e sappiamo che per la fisica l'energia non si consuma ma si trasforma in qualcos'altro quindi è evidente che quando lasciamo il corpo quella parte di noi elettrica per così dire va a finire da qualche altra parte quindi non muore quella e quindi la coscienza non muore lo spirito non muore e di conseguenza la vita e la morte sono un unico flusso ininterrotto di coscienza che continua e che vive con o senza il corpo e di conseguenza il momento della morte è solo il momento in cui la coscienza la nostra diciamo spiritualità ma potrei dire anche il corpo di luce il nostro corpo energetico eccetera si distacca dal corpo fisico che oramai ha finito diciamo il suo tempo lo ha esaurito e va a vivere da un'altra parte può darsi che ritorni a vivere da noi cioè con noi o in un altro universo o in qualche altro locale ma comunque sono assolutamente sicura di questo io la vedo così grazie grazie mille allora Mirella finiamo con te io dico soltanto una cosa prima Mirella gentilmente ha chiesto poi se ognuno di voi autografa ah sì ho già parzialmente ottemperato qualcuno ha ottemperato e altri no Mirella te la parola non ancora no no grazie a Dio non è così grande ecco beh grazie che pensiero pensierino d'amore allora io voglio parlarvi di una cosa di cui non ho mai parlato in pubblico però visto che diciamo me la sento di dirlo quando io ebbi la paralisi io morì cioè ebbi l'esperienza che almeno oggi giorno si chiama Near Death Experience ovvero un NDA cioè un'esperienza di premorte io in realtà sono convintissima e mi ricordo anche se ero una bimba molto piccola io ricordo nitidamente quel momento di passaggio e semplicemente ero stavo in un mondo splendido una cosa una sensazione di estrema bellezza gioia non volevo tornare assolutamente in questa dimensione e fui costretta da queste forze che mi dissero che io dovevo tornare e non volevo tornare nel corpo e dissi che non volevo tornare perché non si stava bene in quel corpo ed non c'era amore dove mi dovevano mi volevano mandare e allora ci fu proprio come io sono una persona che discute non è che mi accontento di una piccola risposta cosicché dissi dimostratemi che c'è qualcuno che ama laggiù in quell'inferno e loro mi risposero tua madre ti ama e a questo punto io fui risucchiata dentro questo corpo che era tutto un dolore con tutti i muscoli infiammati e tutta febbre altissima 41 42 coma eccetera io urlai questi sono i racconti di mia madre io non ho ricordo io mi ricordo perfettamente l'uscita e la rientro nel corpo ma poi tutto quello che segui dopo l'ho quasi cancellato ma mia madre mi ha raccontato che io per una settimana intera pensate sette giorni interi notte e giorno ho solo urlato non c'era morfina non c'era possibilità di nessun farmaco che potesse calmarmi mi avevano dovuto legare a letto tanti gli spasmi erano potenti tanto sembrava una posseduta ci voleva un esorcismo cosicché dopo tutto questo travaglio ho dovuto accettare di essere purtroppo viva in questo corpo ed è stato un lungo processo di conoscenza del male e poi del bene per cui io sono molto contenta oggi però non l'ho mai detto a nessuno in pubblico mai detto però io credo che non esista una differenza sono solo veramente dei livelli diversi noi vibriamo a livelli diversi e quindi la morte è una bellissima cosa me lo sentivo che era bello finire con te non so perché grazie veramente grazie a tutti allora un grandissimo applauso a noi prima di lasciare poi la parola ancora tre minuti a Prabhat quindi non andate via a Mirella a Daniela a Mauro a Giovanni a Enrico a Don Alemanno a Massimo e a Michele per la loro generosità e aver condiviso con noi veramente delle preziose gemme di conoscenza allora Prabhat a te la parola per la chiusura finale Prabhat un editori ciao a tutti una sola parola grazie 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 a tutti grazie a loro sono grazie a voi sono onorato sono onorato di servire con il mio compito tutto quello che sta accadendo sta accadendo è un qualcosa di meraviglioso che non ha che ha un sentiero ma che non ha ancora una fine noi siamo all'inizio di un processo un processo di cambiamento quando io e Mauro abbiamo iniziato nel 2009 non c'era nulla di tutto questo la prima presentazione di Mauro e Mauro non lo può confermare l'abbiamo fatta davanti a forse dieci persone adesso da otto anni stiamo parlando davanti a delle platee sempre più sempre più grosse stiamo toccando il cuore e la mente di decine di migliaia di persone e questo è meraviglioso è affascinante stiamo mettendo insieme una squadra di ricercatori che avete ascoltato che hanno tanto da dire in campi diversi ma con il cuore è quello che stiamo mettendo a disposizione del mondo tra qualche anno avrà un significato che forse ora non siamo ancora in grado di capire ma tra qualche anno lo avrà la cruta dei dogmi l'abbiamo affrontata con mille sfaccettature ognuno di noi mi piace pensarlo è veramente un pezzo di un mosaico del mosaico della vita un tratto su un disegno una pennellata su un quadro quel quadro lo stiamo dipingendo lo stiamo dipingendo insieme è vero che il mondo là fuori come ha detto Michele è vastissimo ci sono miliardi di coscienze che sono ancora addormentate noi stiamo lavorando per un disegno ancora più grosso per portare queste coscienze nell'arco di non lo so non lo vedremo neanche noi questo risultato questa è una liberazione credetemi ci svincola dall'ansia della prestazione quindi quello che stiamo facendo lo stiamo facendo a cuore leggero stiamo portando conoscenza la vera conoscenza perché tutta la conoscenza che ci è stata raccontata per secoli è falsa e questo noi siamo coscienti ci sono ricercatori in tutto il mondo che stanno mettendo in discussione anche la cronologia della storia quindi va tutto smontato tutto alla radice dalla nostra dimensione interiore dal come abbiamo vissuto la nostra sessualità e questo è stato il compito delle religioni massacrare l'energia vitale massacrare la coscienza sull'utilizzo dell'energia vitale agendo fin dall'infanzia il nostro compito i genitori i nonni i futuri genitori è quello di educare i nostri bimbi alla libertà quindi mi viene da dire dal cuore io non l'ho fatto non battezzate i nostri figli è una cosa assolutamente inutile e assurda in questo periodo storico perché la caduta dei dogmi includerà anche la caduta di quello che chiamo il dogma di tutti i dogmi l'adattazione del tempo avanti Cristo e dopo Cristo basta questa cosa crollerà noi ci ritroviamo il 31 gennaio a festeggiare una cosa assurda ok grazie perché il nostro compito il nostro compito è quello di educare i bimbi e noi stessi alla libertà e ricordiamoci che la libertà non esiste se non c'è responsabilità la responsabilità è la conseguenza della conoscenza di noi stessi della conoscenza dei nostri pensieri e di come i nostri pensieri diventano azioni nel mondo per portare un potere che non è manipolazione ma è un potere che parte di qua in coerenza con la mente grazie arrivederci a tutti